Sindaco Luigi Lucchi, dal 1 marzo 2010, cioè dal lunedì scorso, è stata avviata a Berceto la raccolta differenziata porta a porta. Quali considerazioni lei ha potuto trarre finora? Innanzitutto che i bercetesimi e i concittadini sono persone eccezionali, che nel momento in cui si ci propongono cose moderni, utili per l'ambiente e anche per il proprio portafoglio, aderiscono e aderiscono in toto. Ci sono stati qualche disguido, come può essere normale, cose che sistemeremo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Però l'adesione da parte dei cittadini è stata totale, nel senso di condividere il fatto di produrre meno rifiuti, di non gettare tutte le cose considerandole rifiuti, dove poi si spenderebbero 16 euro al quintale per smaltirli. C'è stata una bellissima adesione e anche il piacere di non avere più i cassonetti, di cui molti erano rotti, aperti, quasi mai puliti, mai disinfettati, per le strade del paese. Il paese, anche se oggi non è certamente pulito e provvederemo a giorni con la spazzatrice, ha già assunto un'aria completamente diversa. Sta diventando quel paese e diventerà quel paese turistico che era sempre stato ricordato da tutti. Ecco, secondo lei la raccolta e la metodologia fin qui adottata può essere fatta oggetto di emendazioni, cioè di perfezionamenti? Sicuramente, però era importante intervenire perché le lamentele raccolte quest'estate sulle vecchie modalità di raccolta e smaltimento rifiuti erano veramente tante. Ne abbiamo iniziato a parlare proprio da quest'estate con dei saloni gremiti di persone, quindi con della gente che partecipava e che desiderava queste cose. Queste cose stanno unendo, ed è una cosa bellissima, gli anziani che non producono rifiuti perché hanno benissimo la cultura del risparmio e i bambini, già quelli dell'asilo, quelli dell'elementare e quelli delle medie. C'è stata proprio quest'unione fortissima che influenzerà sull'altro segmento della popolazione. E comunque mi dichiaro soddisfatto sapendo che ci sono ancora tantissime cose da mettere a posto, ma d'altra parte siamo in marzo e arriveremo all'inizio della stagione estiva con la migliore organizzazione possibile, con tutti gli accorgimenti che vanno apportati, che è giusto da portare e che si apportano nel momento in cui si ci rende conto che quello che si era immaginato non sempre funziona al meglio. Per cui abbiamo tutto il tempo per farlo, non abbiamo la presunzione di dire che abbiamo fatto la cosa migliore del mondo e come tutte le cose può essere migliorata e la miglioreremo. Un'ultima domanda, Sindaco, lei ha convocato diverse assemblee, riunioni con le varie associazioni di categoria qua operanti nel Bercetese. Ha ricevuto da queste associazioni collaborazione in questo senso? La collaborazione è piena da parte di tutti. Devo dire che di questo argomento se ne è iniziato a parlare quest'estate, poi se ne è parlato anche in tutte le frazioni, proprio perché quando abbiamo girato tutte le frazioni questo argomento i cittadini lo ponevano come problema, visto che i cassonetti molte volte venivano svuotati in ritardo e a distanza di settimane. Poi abbiamo mandato una lettera a tutte le famiglie, abbiamo fatto delle riunioni in cui abbiamo scelto queste modalità di raccolta e smaltimento rifiuti in febbraio, diverse riunioni pubbliche, riunioni con le associazioni di categoria che hanno risposto positivamente, portando quelle che sono le loro modifiche, i loro problemi che sono del resto reali. Abbiamo fatto tantissime riunioni con le associazioni, sia con le guardie ecologiche, con l'Auser, con tante altre persone del volontariato che hanno sposato a pieno e si sono dichiarati disponibili ad aiutare il Comune su questa battaglia che non finisce qua, perché noi vogliamo arrivare a rifiuti zero. E per arrivare a questo ci vuole una grande partecipazione da parte dei cittadini, partecipazione che andremo a cercare con delle riunioni che faremo ancora in tutte le frazioni per raccogliere quelli che sono dei disguidi, delle cose che non funzionano e nel mesimo tempo anche per enunciare ancora una volta quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione. Direi di una civiltà, di una comunità come quella di Berceto che può arrivare benissimo, anche se è partito in ritardo, ad avere produzione zero di rifiuti. Quindi nel sacco nero, il cosiddetto sacco nero per l'indifferenziato, avere veramente, veramente il minimo. E questo è l'obiettivo che ci poniamo e che nel giro di qualche mese, di qualche anno, riusciremo a raggiungere perché i cittadini sono pronti a tutto questo.